Il prossimo brano è una celebre canzone natalizia statunitense, scritta nel 1941 dalla compositrice Katherine Kenneco Davis, originariamente con il titolo di The Carol of the Drum. Il contenuto è religioso e leggendario allo stesso tempo. Si narra di un ragazzo che non potendo portare un dono al bambino Gesù, inizia a suonare il tamburo in suo omore, con l'approvazione della Virgina Maria. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.